Abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica tra le varie cose di farsi promotore presso la Presidenza del Consiglio di avere un maggiore rispetto per i parlamentari sia della maggioranza che dell'opposizione. Ci sono dei parlamentari che lavorano quotidianamente per il bene degli italiani, per il bene dell'Italia attraverso le riforme costituzionali, attraverso la legge elettorale, attraverso i decreti legge e disegni legislativi che arrivano in aula. Non possiamo permetterci più che ci sia un Presidente del Consiglio che mentre noi siamo in aula a lavorare lui sia fuori e denigri i parlamentari, denigri il lavoro di chi sta quotidianamente facendo il proprio dovere. Pensiamo che in questo momento, importante per quanto riguarda le riforme costituzionali, la posizione, il fatto che il Presidente della Repubblica ci abbia accolto e ci abbia soprattutto ascoltato sia comunque una cosa positiva da tenere in considerazione, anche alla luce di quello che è successo quest'estate, se vi ricordate. Quest'estate con il Presidente Napolitano noi avevamo chiesto un'audizione tutti i gruppi parlamentari di opposizione del Senato insieme ai colleghi della Camera e il Presidente Napolitano non ci aveva nemmeno ricevuti. Quindi già questo è un passo avanti per cercare di ragionare insieme e fare le migliori riforme costituzionali possibili, cosa che in questo momento ci pare che il Governo non voglia fare.